La crisi al comune di Avellino ristagna in attesa di prese di posizione ufficiali. Questa mattina si è svolto l'annunciato faccia a faccia tra il sindaco Foti e il consigliere d'opposizione Preziosi. Sul tavolo il patto dei 100 giorni, discusso in circa 60 minuti. Per Foti sarebbe pronta una stampella per andare avanti. Patti e condizioni erano noti alla vigilia. Preziosi vuole azzerare la giunta per segnare la discontinuità con un'amministrazione che si chiama Foti ma si legge De Luca. Il sindaco avrebbe voluto portare avanti la consigliatura fino al 2018. La sensazione è che non se ne farà molto ma alle 16 il capogruppo di minoranza che sul piatto ha messo l'appoggio anche di altri consiglieri terrà una conferenza stampa. Nessun commento per ora da Foti che intanto prova in queste ore a tirare dentro la gestione anche i damegliani dissidenti ricevendo tuttavia in cambio un no grazie. E se il toto assessore impazza in attesa di dati certi il teatro continua. Nel senso che emerge dalla commissione cultura riunitasi questa mattina la volontà di far proseguire l'esperienza del Gesualdo. Ma per avere i numeri che tutti già conoscono ci vorranno ancora 10 giorni. E il cartellone pur non essendo a rischio non sarà certo di qualità. Nell'ultimo consiglio comunale il sindaco aveva però data per terminata la verifica sul teatro. I tempi invece si allungano insieme a quelli della crisi in attesa di parole chiare e definitive.